Sotto la guida del nuovo tecnico Pietro Infantino, dopo l'esonero di Matteo Vullo, all'indomani della terza sconfitta casalinga contro la Cireale, la San Cataldese si prepara alla trasferta di Castro Villari in programma domenica alle ore 15. I Verdi Amaranto hanno assoluta necessità di punti per tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica. Il penultimo posto, ma soprattutto i soli tre punti all'attivo, non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi che sperano nella seconda vittoria esterna della stagione dopo quella di Cittanova. Il Castro Villari, reduce dalla battuta d'arresto contro il Catania, un 4-0 che brucia non poco dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 e giocato a ottimi livelli, vuole tornare subito al successo. Le partite della sesta giornata nel Girona I di Serie D. Canicattì, Trapani, Castro Villari, San Cataldese, Acireale, Real Aversa, Sant'Agata, San Luca, Cittanova, Ragusa, La Mezzia, Santa Maria, Locri, Vibbonese, Paternò, Licata, Mariglianese, Catania. Non ancora smaltita la delusione per la sconfitta di Agrigento in Coppa Italia che costata l'eliminazione, la Nissa torna a immergersi nell'atmosfera del campionato di eccellenza. Domenica la squadra allenata da Boncore dovrà vedersela tra le Muramiche con la Mazzarese, impegno che si preannuncia più arduo del precedente confronto casalingo contro la Parmonval superata con un perentorio 4-0. La Mazzarese è allestita per navigare nei quartieri alti della classifica e tra le formazioni imbattute del girone insieme ad Acragas, Enne e Don Carlo. Finora ha vinto due partite e ha pareggiato tre volte. Inoltre vanta un'ottima difesa, appena due gol subiti. Il quadro delle partite in programma nel girone A di eccellenza, fischio d'inizio alle ore 15.30. Casteldaccia, Profavara, Don Carlo, Enna, Leonfortese, Gela, Mazzara, Castellammare, Nissa, Mazzarese, Oratorio Marineo, Parmonval, Resuttana, Cus Palermo, Sciacca, Acragas.